Musica A voi tutti buonasera e bentrovati a Montemurlo Informa, la nostra rubrica di informazione e approfondimento dedicata al comune di Montemurlo. Iniziamo questa sera parlando di scuola, in particolare della scuola Loris Malaguzzi di Novello, che vedete alle mie spalle. Nei giorni scorsi sono stati inaugurati gli interventi di riqualificazione che hanno interessato tutto il plesso scolastico. Inaugurata ufficialmente la scuola dell'infanzia Loris Malaguzzi di Novello, totalmente riqualificata e messa in sicurezza. A tagliare il nastro sono stati gli stessi alunni del plesso scolastico situato nel cuore di Montemurlo. L'edificio è stato infatti oggetto di un importante lavoro di riqualificazione sismica ed energetica, un intervento dal valore di 650 mila euro inserito all'interno del progetto di rigenerazione urbana del nuovo centro cittadino di Montemurlo. Siamo felici di aver potuto dare ai bambini, ai montemurlesi anche del futuro, una scuola dell'infanzia completamente rinnovata. Per noi è un'assoluta priorità avere scuole belle, sicure, funzionali a quello che deve essere la migliore ospitalità dei nostri bambini, la migliore attività didattica e quindi con questo intervento che ha rivisto completamente questo edificio siamo riusciti a dare una scuola di alto livello. La scuola ha infatti avuto una ristrutturazione totale, sono stati circa 650 mila euro di interventi assolutamente significativi che oggi ci consentono davvero di dare una scuola di infanzia ai nostri piccoli di altissimo livello. Questa per noi è una priorità fondamentale e il lavoro dell'amministrazione comunale proseguirà in questo senso anche negli altri edifici scolastici. La nostra intenzione è anche attraverso i fondi PNRR di riqualificare e migliorare completamente quella che è l'edilizia scolastica di Montemorlo. La scuola, sappiamo, è davvero il motore del futuro. Spendere risorse, fare investimenti e lavorare sul mondo della scuola è una priorità totale. Gli interventi sono terminati da tempo e già da settembre scorso, dopo i lavori di ristrutturazione, i bambini sono rientrati a scuola ma a causa della pandemia l'inaugurazione della struttura è stata posticipata. Nello specifico, l'edificio è stato messo in sicurezza antisismica. Particolare attenzione è stata data anche al comfort termico ed acustico e al risparmio energetico con la sostituzione di tutti gli infissi, il rifacimento degli impianti elettrici e di riscaldamento e l'installazione di un cappotto termico. È stato inoltre spostato l'ingresso principale da Via Rosselli al lato posteriore verso il parco. Anche l'area giochi della scuola è stata spostata sul lato posteriore ed è stata completamente rinnovata con la piantumazione di nuovi alberi e la creazione di un'area giochi sicura. Noi ci teniamo molto che i nostri bambini abbiano delle scuole che siano sicure, che siano anche belle perché comunque fare attività in strutture così è tutta un'altra cosa rispetto a strutture magari che non siano curate. Quindi è bene che i bambini si ricordino della scuola quando saranno grandi sia per le attività che fanno ma anche per i bei luoghi che hanno frequentato da piccoli. Le novità non finiscono qui. A breve partirà infatti in tutto l'istituto comprensivo Margherita Hac un progetto educativo per promuovere il rispetto e la cura degli spazi scolastici. L'idea è proprio di coinvolgerli attivamente nella cura degli spazi, magari anche i genitori. Ci sono molte scuole che hanno dei gruppi di genitori che fanno anche degli interventi volontari per rimbiancare pareti che magari nel tempo si sporcano oppure i bagni o curare i giardini eccetera. Perché devo dire l'amministrazione ci dà molto da questo punto di vista e poi è un'opportunità di fare un progetto educativo per i ragazzi. Parliamo adesso di sanità e in particolare di prevenzione del tumore al seno. Arriva anche a Montemurlo in piazza Don Milani il camper per lo screening mammografico un'importante campagna diagnostica preventiva promossa dall'ASL Toscana Centro. Un'unità mobile attrezzata per eseguire screening mammografici è il mezzo messo in campo anche a Montemurlo dall'ASL Toscana Centro sul fronte della prevenzione. Fino al prossimo 26 maggio l'unità mobile stazionerà infatti in piazza Don Milani. Un'importante campagna diagnostica preventiva gratuita promossa dall'azienda sanitaria che si rivolge a 4100 donne. Tante sono le residenti nel comune di Montemurlo di età compresa tra i 45 e i 74 anni e che hanno ricevuto l'invito a fare lo screening nei prossimi mesi. Questo è il programma di screening di primo livello per la mammografia. Le donne programmate sono 4100 circa nel comune di Montemurlo suddivise per fasce di età, quelle con cadenza annuale dai 45 ai 49 anni sono circa 700, nell'età compresa dai 50 ai 69 circa 2700 e poi quelle dai 70 ai 74 sono circa 580. È fondamentale che ogni donna aderisca alla campagna. Vengono mandate le lettere alle donne circa 3-4 settimane prima che possono comunque, eventualmente se non possono aderire, spostare l'appuntamento chiamando il numero del centro prevenzione oncologica che è adesso in via Galcianese. Una volta fatto il primo livello, se la risposta è negativa viene comunicata direttamente. Se invece ci sono dei dubbi o dei sospetti, la donna viene richiamata per un esame o fatto in altre proiezioni o un'ecografia o un'acqua aspirato, sempre dalla fora, presso però il camper che è situato all'ospedale Santo Stefano. E poi, eventualmente, se ci dovessero essere ulteriori necessità di indagini e approfondimenti, la biopsia in stereotassi, quindi guidata, viene fatta però al centro prevenzione oncologica. Lo screening mammografico è un intervento sanitario importante di prevenzione finalizzato alla diagnosi precoce del tumore al seno o anche delle alterazioni che possono precederne l'insorgenza. Una campagna che sul territorio ha sempre riscontrato una larga adesione da parte delle donne con percentuali di risposta fino al 74%. Per noi è assolutamente fondamentale avvicinare la sanità al cittadino, soprattutto su un tema come questo, appunto, una donna sonnova e purtroppo va incontro a alterazioni o patologie di questo tipo. È fondamentale fare prevenzione, è fondamentale avere servizi di questo tipo ed è fondamentale averli qui sul territorio. Anche per questo, come amministrazione comunale, infatti, stiamo cercando, abbiamo ovviamente promosso insieme a Regione Toscana e Asla la realizzazione della Casa della Comunità su Montemurlo, che sarà, diciamo, un luogo fondamentale per poter ospitare servizi come questi che in questo momento, attraverso l'unità mobili, però, possono dare un'occasione importante di prevenzione a tutte le montemurlesi. Quindi il mio invito è assolutamente di venire, ovviamente, avere questo tipo di esame. La sanità pubblica è assolutamente una grande priorità e come amministrazione vogliamo potenziare e migliorare ancora di più quelle che possano essere sul territorio i vari servizi di prossimità in campo sanitario. L'unità mobile resterà in Piazza Don Milani, come detto, fino al 26 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.00. Abbiamo voluto quest'anno un'organizzazione semplice, un'organizzazione funzionale direttamente qui in Piazza Don Milani, con un ampio parcheggio dove le signore troveranno due camper, uno per l'accoglienza, quindi per l'accettazione, e l'altro proprio dove ci sono i macchinari specialistici per effettuare la mammografia. Quindi è un servizio completamente, lo ribadisco, gratuito. Quindi l'appello che faccio a tutte le nostre cittadine di Montemurle è quello di venire, mettersi in fila e quindi entrare all'interno dei camper e affidarsi alla professionalità dei medici che effettueranno l'esame. Per qualsiasi informazione possono rivolgersi, se non avessero ricevuto la lettra, al centro di prevenzione oncologica in via Galcianese a Prato, dove professionale e persone disponibili possano dare tutte le informazioni necessarie. Quindi davvero un appello alla prevenzione affinché si possa ridurre il rischio del tumore al seno. I servizi sociosanitari arrivano sempre più vicini ai cittadini. È stata infatti approvata la Convenzione per la Casa di Comunità, un progetto finanziato con i fondi del PNRR dal valore di 3 milioni di euro e che sarà realizzato entro il 2026. Prende il via a Montemurlo il percorso per la realizzazione della Casa di Comunità, un nuovo modello di organizzazione della salute sul territorio per avvicinare i servizi sociosanitari ai cittadini e alleggerire la pressione sull'ospedale e il pronto soccorso. La Giunta Comunale ha approvato il protocollo d'intesa per la realizzazione della Casa di Comunità che nei prossimi giorni sarà sottoscritto formalmente dal sindaco Simone Calamai e da rappresentanti della Società della Salute dell'Asla Toscana Centro. Si tratta di un progetto del valore di oltre 3 milioni di euro finanziato nel 2022 con fondi PNRR e risorse complementari della Regione Toscana che consentirà di realizzare entro il 2026 una nuova struttura sanitaria sul territorio. L'area è individuata fin dal 2008 dal Comune di Montemurlo per realizzare la Casa di Comunità e quella a margine di via Pertini. La nuova struttura consentirà di raddoppiare servizi di tipo sociosanitario sul territorio di Montemurlo, avvicinandoli ai cittadini con l'adozione di un nuovo approccio integrato e multidisciplinare attraverso la procedura dell'equip multiprofessionale territoriale. La modalità di erogazione di servizi sociosanitari per 12 ore giornaliere consentirà ai cittadini di Montemurlo di avere a disposizione prestazioni sanitarie per tutta la giornata. Inoltre la Casa della Comunità porta sul territorio nuove attività e servizi sanitari pubblici che attualmente non sono presenti a Montemurlo. Questo accordo con Asla e con la Società della Salute dell'Area Pratese è strategico perché per noi significa arricchire Montemurlo di servizi sociosanitari indispensabili attraverso quello che sarà il modello organizzativo H12, significherà avere durante tutte le ore del giorno servizi di tipo sanitario di livello, significherà arricchire alle funzioni di distretto anche altre attività a partire dalla diagnostica di base e a spazi di tipo ambulatoriale, significa quindi avvicinare al territorio la sanità e penso che questo sia davvero una grande priorità per tutti noi. Vediamo anche quelle che possano essere in questo momento le difficoltà dei pronti soccorso, degli ospedali. C'è un grande tema che riguarda tutti noi ed è quello di avvicinare la sanità presso i territori. Ecco, la Casa della Comunità di Montemurlo consentirà di fare questo, quindi per noi è una grande priorità. Siamo felici di questo protocollo e anzi, insieme ad Asle, per quanto di nostra competenza, lavoreremo nel modo più spedito possibile affinché da qui al 2026 si possa arricchire a Montemurlo di queste funzioni sanitarie di grande significato e di grande importanza per la salute di tutti a partire ovviamente dalle persone che hanno difficoltà di salute e dei più anziani. È il momento dell'agenda, vediamo insieme gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni a Montemurlo. Sabato 18 marzo alle 10.30 la biblioteca Bartolomeo della Fonte che forza, papà, attraverso la lettura dell'omonimo libro di Isabella Paglia i bambini saranno condotti alla scoperta dell'universo dei padri iniziativa rivolta ai bimbi da 3 a 8 anni. Sempre sabato 18 marzo alle 16 al centro sociale il villaggio del Sorriso di Viatotti 23 Oste per il mio papà, laboratorio creativo per bambini. Domenica 19 marzo alle 16.30 la Salabanti Radio Pinocchio, spettacolo che porta i bambini nel mondo del famoso burattino. Produzione CAM con Vasco Mirandola, Martina Pittarello e Gabriele Grotto. Terzo appuntamento della rassegna, ci vediamo a teatro. E ancora sempre domenica 19 marzo alle 15 al centro sportivo Nesti di Via Micca Bagnolo, masterclass di Zumba con Ronnie Gratero presentatore e maestro di Zumba di fama internazionale. Giovedì 23 marzo alle 21.15 alla Salabanti Donne per l'arte, vite straordinarie di mecenate, artiste e critiche d'arte del Novecento incontro a cura di Alessia Cecconi nell'ambito della rassegna Il marzo delle donne, ingresso libero. Dal 20 al 26 marzo nella Galleria Espositiva di Salabanti le Nobel per la Pace mostra cura dell'associazione toponomastica femminile con il sostegno del Lunar. Con l'agenda è tutto, Montemurlo in forma per questa sera termina qui ci vediamo venerdì prossimo con nuovi approfondimenti dedicati al Comune di Montemurlo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie per averci seguito, arrivederci.